Sì, gli spazi comincia l'avventura, 40.000 saremo antifar. Sprende il sole e lo stadio è tutto in festa, quando difendi lo scrive color. Il bianco e il sur e il ciasco è tollerà, è la bandiera più bella che ci sta. Sei forte più di un battaglio, e viva pescarà, sconvincito di il marco. Dai forza pescarà, un grido sole che c'erà. E viva pescarà, un nome solo in Cera. Dai forza pescarà. Dunque nel bene e nel male lo spettacolo davvero non manca. Zeman deve rinunciare a Gessa, rimpiazzato da Nico, che ha nelle corde soprattutto la fase di interdizione. Cascione, metodista, Togni, mezzala destra, davanti il tridente Sanzovini, Maniero, Insigne. Vittoria del match a fondo di Petterini, spinto in area da Pani. Rigore ineccepibile che Sanzovini ferrisce con la complicità dell'ottimo Viotti. Ancora bravo nel rispingere il colpo di testa di Cascione e successivamente il tiro da fuori. Pinzoglio non sembra impeccabile, in ritardo il nazionale under 21 su Cisotti per Nasca di Bari e calcio di rigore che Principali trasforma con freddezza. 0-1, Trestina in vantaggio. Pescara in difficoltà, la reazione doccia gelata però la mezz'ora. Bariti a sinistra fa il fenomeno, invito in mezzo e volé di Godeas. Pinzoglio alza sopra la traversa corner. La difesa si eclissa e la riete Giuliano ringrazia. 0-2, sembra fatta per la Triestina ma così non è. A dir poco rabbiosa infatti la reazione dei benchizzori è 82esimo. Giacomelli ispira, Insigne accorcia, 1-2. Vediamo Giacomelli, allarga il gioco, Insigne, Insigne il tiro, rete! Si riapre l'incontro, Insigne! A gancio che tuttavia si concreta alla minuto 92, prodezza individuale in calce. La firma di Lorenzo Insigne è un gol capolavoro che infiamma l'Adriatico. Rete, Insigne, grandissimo gol, Lorenzo, Insigne, 2-2. La rincorsa, il tiro, rete. La rincorsa, Sanzovini, il tiro, rete. Rete di Sanzovini, 1-1. Godeas contro Pinzoglio, Godeas il tiro, rete. Damiano Zanon, fisco dell'arbitro Zanon, spiazza anche lui il portiere della Triestina. Principalli, fischi del pubblico, il tiro, spiazzato, ancora una volta Pinzoglio, che freddezza. La rincorsa di Marco Verratti, il tiro, rete. Rete di Verratti. Miani, la rincorsa, il tiro anche lui, spiazza Pinzoglio. Insigne, Insigne, il tiro, rete. Palo rete. Pezzi, la rincorsa, il gol. Spiazzato di nuovo Pinzoglio, che precisione. Emanuele Cascione, il tiro, rete. Ha rischiato tantissimo perché Viotti è riuscito a deviare il pallone. Fischi del pubblico, Viotti, il tiro, la parata, no! È incredibile. Pinzoglio aveva probabilmente toccato il pallone. Attenzione, Romagnoli, il tiro, l'è spiazzato il portiere della Triestina. Bravissimo. D'Ambrosio contro Pinzoglio, il tiro, c'era arrivato ancora una volta Pinzoglio. Pinzoglio, ma non è riuscito ad intercettare la palla. Giacomelli, Giacomelli, il tiro, rete. 9 a 9. Contro Pinzoglio, Villanovic, il tiro, parata, la parata di Pinzoglio. Straordinario l'intervento di Carlo Pinzoglio, che va a raccogliere gli applausi della Curva Nord e dell'intero stadio Adriatico Giovanni Cornacchi. Sarebbe bello perché un pescarese puro sangue, Marco Capuano, 1991, nazionale under 21. Ci affidiamo a lui, Capuano, il tiro e la parata. Parata di Viotti. Devena, la ricorsa, il tiro, rete. Attenzione, Balsano, il tiro, Balsano, rete. Rete di Balsano. Cecchini, Cecchini. La palla che si infila alla sinistra. Carlo Pinzoglio, il tiro di Pinzoglio, spiazzato il portiere Viotti. Bravissimo Pinzoglio. Bariti, e là a destra c'è il pallonetto addirittura, lo scavino. Sì, 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 sì. La rincorsa di Sanzovini. Sanzovini, il tiro, traversa, è finita. Sanzovini, il tiro,erca. Sanzovini, il tiro, archivo, spiazzato. Sanzovini, il tiro, braccio. Sanzovini, il tiro, braccio.